peter una domanda come scegli il profilo delle ruote per una gara per esempio come la milano sanremo cioè dalla vasta gamma di ruote vision che cosa sceglierai allora sempre discorso di come il percorso di gara se è troppo dura o c'è tanta pianura come arrivo tutte queste cose poi anche da vento dipende però per domani io ho scelto vision 55 io penso che per percorso come domani sarà ruota migliore consiglia anche questo profilo i tuoi compagni o è una scelta indipendente dipende perché poi qualcuno dei miei compagni devono sanno ruolo che devono tirare da inizio così tanta pianura allora scelgono profilo 81 io che dovrò affrontare gran parte della sanremo davanti cercherò qualcosa che mi permetterà di tenere alta la mia velocità quindi le metrano 81 chi invece dovrà poi occuparsi del del finale più più scatti più reattività cercherà di prendere ruote con un profilo un po più basso a scelta comunque dell'ampia gamma che ha fsa se paolo sceglierà le 81 perché deve tirare tanto tu che ruote sceglierai dalla gamma vision per domani quelle più basse perché spero di non tirare marco sei nuovo in questo team e da poco usi le ruote vision hai già una tua ruota preferita ma di tutte quelle che tutta la gamma diciamo che ho potuto provare sicuramente le 55 sono quelle che mi permettono diciamo di trovarmi bene un po in tutti i terreni sicuramente la scelta di gara in gara viene fatta anche in base appunto al percorso e anche alle condizioni atmosferiche oscar domani forse sarà una giornata bagnata cambia qualcosa nelle scelte delle ruote o continuate col carbonio per me personalmente non ci sono grandi differenze quindi carbonio sempre e peter e guardando più avanti nell'arco della stagione una gara come il giro delle fiandre che cosa hai già in mente quale profilo scegliere dalla gamma vision penso che l'anno scorso ho usato anche lì ruote 40 io penso il percorso tecnico e strapi duri così anche questo anno scelgo 40